Oggi 11 gennaio è ripartita all'Aran alla trattativa per completare il rinnovo del nostro contratto. Nei mesi scorsi avevamo raggiunto un'intesa che anticipava gran parte degli effetti economici, quella che ha trovato applicazione nel mese di dicembre con il pagamento degli aumenti maturati nel corso del triennio. Ora si tratta di completare il lavoro, definendo la parte rimanente dei benefici, con l'utilizzo delle risorse rese disponibili dall'intesa del 10 novembre. 300 milioni, destinati in origine a pagare prestazioni aggiuntive attraverso la contrattazione di istituto, li useremo invece per l'RPD di tutti i docenti. Altri 37 milioni saranno destinati al personale ATA. Ci sono poi da distribuire gli ulteriori 100 milioni, una tantum, sempre previsti dall'intesa di novembre e il 5% rimanente rispetto al 95% di risorse utilizzate per le anticipazioni. Poter disporre di queste risorse aggiuntive è la ragione che ci aveva indotti a non chiudere prima il negoziato, una scelta che sia confermata alla luce dei fatti, giusta e conveniente. L'incontro di oggi è stato importante anche per altri aspetti. Per evitare che la trattativa si incagliasse nelle difficoltà legate al confronto sugli ordinamenti del personale ATA, abbiamo concordato una modalità di lavoro che ci consenta di analizzare da subito, punto per punto, tutti gli articoli della parte normativa del contratto. Un lavoro fatto di approfondimenti tecnici e di periodiche verifiche politiche sui nodi più controversi. L'obiettivo è concludere il negoziato nel modo migliore e nel più breve tempo possibile. Cominciamo quindi il nuovo anno entrando subito nel vivo di un impegno che per un sindacato come la CISL di stampo contrattualista costituisce un'assoluta priorità. Seguiteci sul nostro sito e sui nostri canali social per un'informazione costante e puntuale.